Pista di nuovo con Ettore Giovannelli e un ospite. Allora, Flavio Briatore, questa volta le Renault sembrano un po' più in difficoltà e comunque sul ritmo di gara sembrano andare bene. Cosa ti aspetti da questa gara? Cosa speri? Io mi aspetto un podio. Credo che qui davanti a noi, escluso Montoya, sono molto leggeri. Vediamo, bisogna finire le gare. Abbiamo la macchina sicuramente che può andare sul podio, magari anche tutti e due. Perché abbiamo un buon ritmo, le gomme sono gomme dure, per cui abbiamo partito un po' in qualifica per questa scelta. Però adesso siamo in gara e dovrebbe pagare. Grazie. Ciao.